Iniziamo. Yardanghe. 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 C'è tutto in questo gioco. Intanto ringraziamo di nuovo i Pixel Maniacs. I nostri ragazzoni amici che stasera vengono con noi a mangiare il sushi. Ma perché? Pagano loro. Sì, sono, se non lo sapete, i grandissimi creatori di Chromagun. Che ci hanno regalato stavolta due key, visto che questo è un gioco in cooperativa, non sappiamo neanche se si potrà giocare su un solo computer. Secondo me sì. Lui dice che sì, io boh. È un giochino, si chiama Can't Drive This. Come funziona? Lui in questo momento costruisce la strada. Io costruisco la strada e lui guida mentre io costruisco. Cosa bella è che ho aperto il gioco e ce l'ho scritto. Ok, puoi farlo. Perfetto, devo entrare in qualche modo? Stavo comandando. Allora, ehi, il Monster Truck, non lo sapevo mai. Ah! Vai, Nico! Moderna come scappa sto coso! Sì, ma io non so fare. Allora, in questo gioco... Eh? Ehi! Ok, ho capito. Ok, ah! Con... Praticamente i pezzi mi arrivano stile Tetris. Sì, quello lo so. E io no! Stavo dicendo una cosa. Per girare i pezzi devi usare Q ed E. No, posso fare anche con l'elevento. Ok. Con il tasto testo. Ho visto che si potrebbero fare con Q ed E. Comunque, un giochino di questo tipo, poi dovremmo magari anche cambiare i veicoli, perché quando abbiamo aperto il gioco c'era scritto nuovo veicolo aggiunto. Guardate lo stronzo. Nuovo veicolo aggiunto, hanno messo la Formula 1. Ah! 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 Non devo, non devo fermarmi. Praticamente se mi fermo, vedete? Vai, vai, riprova. Rimatch. Stai facendo tutto a tu, io in questo momento sono solo... Sì, sì. Sì, come vedi, c'è la barra di Danger, che se io vado sotto la soglia di quei chilometri orari, la macchina mi esplode. È un casino. I controlli, puttana! I controlli non sono nemmeno male. Vai, mi sto divertendo. I controlli non sono nemmeno male, è un giochino semplice che... Io purtroppo tendo a incasinarmi perché fisso una cosa. Oh, 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 che cazzo è qua? Puttana... No! No! Mi sa che devo guardare il tuo schermo, Nicolai. Se guardo il tuo schermo vinco, proviamo. Poi voglio cambiare macchina, eh. Se guardi il mio schermo stai cittando di morte. E io il tuo guardo. Ehi! Ho sbagliato! No! Ti fa andare a controllo. Perché ho guardato... No, no, no. Ragazzi, è bellissimo. Quasi quasi la regaliamola a chi. Non sto scherzando. Perché per chi è un amico con cui vuole divertirsi... È davvero carino questo gioco. Simone, ti sto facendo una bastarda. Ah, puttana Eva! Aspetta, ma se vado a retromarcia mi dà lo stesso, la... La pericolosità. Aspetta. Fai meno un attimo che cambiamo la macchina. Ah, scusate. Fanno il rematch. Vabbè, proviamo. Ah, non ho capito, fai meno uno. Eh, minchia, ma se fai retromarcia comunque esplodi. Che cazzo di... Cioè, se ti fai i miei esplodi... Sì, se tipo devi andare un attimo indietro, non puoi esplodi. Devi comunque stare fermo, perché tanto non serve a niente. Ragazzi, è divertente. Fosa tu menù. Questa è una fetta, partiamo da questo posto qua. Eh, e le potenzialità ce le ha, perché si iniziano a mettere un'altra roba, veramente carino. Allora... Ah, si può personalizzare... C'è un autobus! Nicola, cambiamo... C'è un autobus! Proviamo tutti i veicoli, vai. Cambiamo il colore al pullman. Mettiamo... Rosa! Rosa! Sì, colore B. Mettiamo verde. Lanca un pochino, eh. Vabbè, però dai, è da ottimizzare ancora. Sto solo dicendo, lanca pochino. Pattern. Leopardà. Ragazzi, questo gioco... Perchè c'è un pesce? Perchè c'è un pesce? Metti il pesce! Bellissimo! No, no, il pesce, il pesce. Stavo solo guardando gli altri. C'è anche l'Atalas di No Man's Sky. Ah, e quindi poi cosa succede? Spoiler, metti lo spoiler. Oh, tu! Fast and Furious più più. Dove sta? Stai qua. Ah, ecco, sta dietro. L'arcobaleno. Bello, vai! Basta. Cos'è street? No, aspetta, voglio capire street. Puoi colorare la strada. Fai un altro colore a caso, non lo so. No, 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 aspetta, sto cercando di capire. Ah, è stato spaccato in pratica. Quanto è... Sì, sì, la granulosità. Colore A. Si può personalizzare tutto, è fantastico. Non è che ci sia molto? Eh, ma è quello il bello. No, nel senso, non c'è molto, quindi non era difficile fare la personalizzazione. Vuoi fare tu la macchina? Ah, non, 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 tranquillo. Ah, minchia il pullman, che ripresa che ha. La miseria. Non vedo un cazzo, però. Eh, vabbè, dove cazzo devo andare? Mi hai fatto il tornante di Monaco qua. C'è una puttana, vai, riprova. Ragazzi, mi sto divert... Ah, che cazzo! Ma dai! Ma la stagione è iniziata! Ma l'unica cosa che devo aggiustare è che un attimo in più di tempo per fare manovra. Eh, vabbè, ma come sbagli... Nicola, se guidi il pullman, ti rendi conto che non ha stabilità... Ci passi in mezzo! Guarda! Guardami! Guardami! Fausto Furioso! Fantastico! Nicola, devi giocarci. Cambiamo macchia, cambiamo macchia. Fammi provare la Formula 1 e poi voglio... Voglio vedere un attimo. Vai. Il caricamento poco poco non accettabile. Vedi, vai. Bellissima! Vabbè, senza perdere tempo a colorarla. Tanto... Ma è già bellissima così. Il modello è molto simile alla Ferrari dell'anno scorso. E' proprio gli stessi colori, quindi. Sì, in teoria. Solo che le ruote sono un po' più piccole rispetto a quelle di una Formula 1. Sapeste questo quando sarebbe bello? Non vale! Ce l'ho fatta! Nicola, che cazzo stai combinando? Non c'è ancora preso la mano a mettere i pezzi. Ma mi è chiuso, sei una troia. Ho detto che ancora non c'è preso la mano a mettere i pezzi. Io vado con calma. E vabbè, sembri mio padre quando il giorno prima dell'esame di scuola guida ero dopo l'incrocio. Gira a destra. Papà, devi andare addosso alle macchine parcheggiate o... Simone, non è facile perché... Nicola... A sbagliare! Eh, vaffanculo! Torna indietro, torna indietro! Fai la tornare indietro! Ah! Che è successo? Ce la fai a tornare indietro! Dico no! No! Con lo vedi un pezzo che non puoi mettere... Puoi metterlo lontano onde stare per forza adiacente al tracciato. No, non c'è stato il fatto di adiacente al tracciato. Vuoi provarlo tu? E' bellissimo. E' come seguita, così hai detto, no? Deve andare sopra... Ok, solo con lo stick sinistro. Ok. Basare a clicchi su rimatch, tasto destro per girare i pezzi, tasto sinistro per metterli. Faccio Q ed è così, c'ho la rotazione veloce. Allora, rimatch. Ti accorgerai che è difficile. Vai! Non so che pezzi ci sono. Ok, li vedo. Come cazzo guida la macchina? Attenzione! Mi avevi messo il salto. No, non lo so. Nicolai, è un casino gioco. Il salto c'è. È un casino anche giocare da parte tua. Non ce l'ho detto, è un casino perché... Vai, 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 vai. Ti devi abituare. Di qua! Non ci ha partito, strozza animale. Vai! La facciamo l'entromarcia? Sì. Pronto? Sei sicuro? Fammi partire prima. Ok, scusate, sapendo che questo qua non fa... Questo parte! Non si sa. Il gioco degli autistici. Vai! Vedi che poi finisce la mappa a un certo punto. Ho visto il game... Che hai fatto? Ho sterzato male. È difficile sterzare nei videogiochi di metromarcia. È difficile anche andare avanti. Vai! Ok, ok. Tutti uguali sono per ora. Aspetta che ti... C'è il salto, e attenzione! Dove cazzo ti... Cambiamo veicolo, vai! Io ho colpito! Ho colpito la p... Tu fidati, cambiamo veicolo. Ho colpito la palla rotante. Allora, giusto per loro facciamo vedere... Customize. Facciamo vedere dove cazzo era, vai. Body. Body. Facciamo vedere il Doom Buggy. Però cambia il colore. Sì, sì, dai. Allora, facciamo colore A. No, no, bruttissimo così. Giallo, arancione. Mi dispiace che c'è la... Che devi toccare sulla... Rotellina le fa schifo. Sì, vabbè, non fa niente. C'è la mia rotellina, è morta. Pattern. Questa è praticamente presa da Rocket League, sta macchina, più o meno. Facciamo il naso, ci mettiamo... I baffi. I baffi. Perché gira da solo? Sto guardando davanti. Lo spoiler ti metto questo, perché tu... Goku muore! Lo spoiler. Questo proprio... Ah! Ah! Va benissimo! Vuoi questo? C'è davvero! C'è davvero lo spoiler! Mica Fessi! Ok. È uno spoiler con lo spoiler sopra proprio, ragazzi. Allora, torniamo indietro. La strada te la voglio modificare. Vai! Colore A! Cambia poco. Lo so, lo so. Vabbè, basta. Mi piace così. I lati rosa. Te lo modificherà proprio tutto il tracciato. Start. Yardage. Abbiamo detto locale, no? È piano! Un attimo! Io stavo guardando... C'è un'ottima ripresa. Sì? 41 mph. Ti dice tutte le statistiche. Interessante. Si muove la strada! Si muove la strada! Si muove la strada! Non ha fatto la strada! L'ho fatto apposta! Vai! All'inizio te li dà tutti dritti per prendere velocità. Curva! No, cazzo! Devi saltare! Nico, vai! Di qui! No! No, di qua! Gira! Che sto facendo? No! Che cazzo... Qua puoi andare che... Sì, ho sbagliato io. È un casino coordinarsi, cazzo. Vai! Me l'hai messa troppo tardi e non sono uscita a sterzare. Ah! Eh, vabbè. No! Io che guido intera la pata per... Gira, gira! No, mi hai messo il salto, puttana! Eh, non so, aiutarti qua, mi dispiace. È finito il blocco. Adesso devi girare a cazzo finché non muori, mi sa, non lo so. Come hai finito il blocco? Sono finiti i blocchi a un certo punto, non si sa. Non ti faccio mettere più niente? No. Erano spariti tutti. Sto guidando bene. Vai, vai, vai. Si vuole più per me da mettere la strada. Ah, che cazzo vuoi da me? Vai! Ti sto mettendo tutto... Sono finiti. Ah, ecco. Te li metto ogni tanto. Curve... No, vabbè, ma io come cazzo faccio a mettere le curve? Eh? È difficile. Perché quello che devi girare. C'è il tempo, c'è il tempo, nel senso, a un certo punto finisco i blocchi, di aspettare qualche secondo prima che te ne dia un altro. È stronzo pure lui. Ah, ok, questa è una cosa prima. Capito? A me non mi è successo. Cioè c'è il culo down ai pezzi. Ma non gira un cazzo. Si vuole, basta con i salti così, ma è dall'altra parte. Eh, no, non fa un cazzo. Chi ti dà? Aspetta, è finito. No! Non avessi messo pezzi a cazzo. Avevo paura. Vuoi provare il pullman? È bellissimo. No. Sei sicuro? Forse un giorno. Allora, considerato che questo non funziona! Ah, ho sbagliato io. Ragazzi, io mi sto pentendo di aver riscattato la key di questo gioco. Gli do i soldi. Vado sul sito, apro il paypal e gli do i soldi. Questo è un bel progettino. Cioè, è un giochino stupido, ma è divertente. Ti faccio provare il pullman. Questo glielo pago! Ti rendi conto? Questi sono i pullman di Tara. Con lo spoiler. Si. Allora. Back. Start. Ragazzi. Allora, facciamo giusto al massimo un altro paio, visto che comunque lì lo sta durando. Allora, si, si. Noi vi regaliamo la key del gioco. Proviamo con il contest. Si, dai, facciamo un contest. Magari facciamo un altro video. E che cazzo! Devo ricordarmi di girarli. Allora, ci riprovo? Vai. Allora, magari senza fare un altro video, posso scrivere nei commenti, no? Si, si. Noi diamo tempo. Cazzo, devo fare il tasto rosso. Facciamo così. Mettete... Nei commenti un numero da 100 a 10.000, così si evitano i numeri. Esatto. Utilizziamo un generatore di numeri casuali. Troviamo il... Cazzo! Generiamo un numero... Ma non lo fai detto che fai schifo? Eh, ma tante volte devo girarlo, sto cazzo! Comunque, mettete nei commenti un numero da 1 a 10.000. Ovviamente, leggete prima i commenti che se magari... Numeri da 1, no, meglio fare da 100, perché... Sennò ti eviti, ti metti uno e tutti i risultati... Con uno... Vai, Nicola, ti ho salvato, ti ho salvato la vita, vai! No, no, ci sono le punette, guarda. Comunque, praticamente, mettete da 100 a 10.000, così si evitiamo... Oppure da 100 a 999. Un commento solo, eh? Si evitano... Un commento solo da 100 a 999. In questo modo si evitano, tipo, che esce il numero 11 e quindi vale 11, 110 e roba del genere. Quindi evitiamo queste cose. Mettete da 100 a 999. Noi il giorno... Oh, facciamo tempo due settimane, massimo. Dall'uscita di questo video. Dall'uscita di questo video, noi generiamo il numero, magari facciamo anche un video e poi contattiamo l'utente per dare la chiave. Poi magari ci lasciate l'email, qualcosa che volete voi. Oh, perché lui si possa contattare tramite il messaggio su YouTube. E vi mandiamo la chiave del gioco. E vi potete divertire, perché veramente è un'idea del cazzo questa, ma soprattutto per chi guida è divertentissima. Mettì, 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 mettì. Ragazzi, noi continuiamo a giocare, ma nel frattempo vi salutiamo. Stava morendo Nicola. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando, se volete questo gioco ce lo fate sapere. Vedi l'ho imparato? Ce lo fate sapere? L'automus non ha un meglio dover essere guidato. Così non si può più morire. Gira sempre a sinistra. Gira sempre a sinistra. Abbiamo vinto! Ah, aspetta, ma ti torna indietro il record perché non sto più aggiungendo i pezzi. Esatto. A posto. Vabbè, ragazzi, commentate, mi raccomando. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. 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 Ciao.